Ragazzi, nuovo video YouTube, pacchetti con una base, max 87, andiamo a vedere chi c'è sotto, 200 cappettini di sfida, anche abbastanza abbordabili, ok, splittata in 3 ma le sfide sono 85, 86 con 87 e altre 86 con 87, rispetto all'anno scorso che era 86-87, quindi, 3, 2, 1, vamonos! ATT? Come direbbe Alessandro Borghese, non è un buon inizio, signori, non è un buon inizio, signori. Il mio fratello Carletto, che se no già sto tenuto qui finora, andiamo ad aprire, ragazzi, uuuuh, 3, 2, 1, dai, Carletto gli sculiamo peso, me lo sento. Che poi Carl, chi è? E Rijkaard, mi sa, è Rijkaard, se ti ho trovato Rijkaard, bingo, tifoso del Milan e Rijkaard effettivamente quest'anno è una carta forte. Franky Rijkaard quest'anno effettivamente è una carta forte. Cazzo se è una carta forte, perché poi può giocare in due ruoli, quanto sta ora, Franky? È 500k di Rijkaard, questo può giocare in difesa e al centrocampo, questo è un gran colpo, ragazzi, questo è un gran colpo. Ci siamo! Non c'è due, senza tre, sì, c'ero, dai, non si deve, non si deve aprire l'icona. Allora, però c'è, l'icona non si deve aprire adesso per andare, cioè, per fare schifo come quelle due, non deve aprirsi l'icon. Andiamo a vedere sotto, 3, 2, 1, vamonosciè. Una bella, dai. ATT, Croazia. Questo già meglio, questo è già meglio, questa è già una carta un pochettino più presentabile, perché a inizio gioco è un'altra cosa, con la bella trivellina c'ha almeno su 200k di carta. Non è un fenomeno, ma su 200k di carta. Questa iconcina, andiamo a vedere se facciamo meglio la prima, anche perché è peggio. O facciamo scopa, ragazzi, o nulla. E allora, altra icon, 3, 2, 1. Vamonosciè. Oooooooooooohhhhhh. World count, ovviamente. Cici. Però non si può iniziare in questo modo, eh. Non si può iniziare in questo modo, con l'icona, eh. Non è modo, secondo me. Secondo me non è modo partire rush e poi king. Il signore ve l'apre Nico. Il buon re qui in GTV. Sono prontissimo, Nicola. Dambi questo Larsson, questo Gattuso. Oh, vero. Vero. Ahahah. Attenzione. Ohhhhh. Immaginate, mi tira fuori Torres. Oh, chi è? È Rush, è Rush. È Kluivert. Ahahahah. È Patrick. È Patrizio. L'olandese volante. Kluivert. Esattamente. Perché questo fa schifo. Addio. Certo, monna, invitami. Altro giro. Altra iconcina, signori belli. Andiamo a vedere che cosa troviamo da qui sotto. L'icona di mio fratello Conde. Quanto la sfida dal prezzo lo sapete. Sono tre sfide. Andiamo a vedere. Uuuuh. Tutti in Ae. Siamo, siamo tutti in Cera. Dai, una bella modo. Ok, chi è? Ci viene? Braccia. Claude! Cazzo, Claude buono, ragazzi. Claude molto bene, devo dire. Molto, molto bene, Claude. Con l'autococco. Beh, la c'è qui il gioco anche esterno. Questo, ma lasciamo perdere. Questo è il gran bel GDC. 48 finalizzazioni male, eh. Ragazzi, lasciate un pulizione. Iscrivetevi nei commenti che cosa avete trovato voi. E la vostra iphone. Mi raccomando. Al prossimo video.